Questo è un breve video per presentare il prossimo corso di terapie egizio e sene a distanza e tecniche di autoguarigione. Sono tre incontri online all'incirca di 2-3 ore ciascuno e in questi tre incontri esploreremo la dimensione sena, la dimensione emozionale, la dimensione mentale, la dimensione energetica e spirituale del nostro essere e ovviamente la dimensione fisica che le comprende tutte. Le tecniche che ti propongo sono tecniche che potrai usare su te stessa per facilitare la comprensione emozionale e lo scorrimento del flusso energetico, ma anche tecniche che potrai utilizzare per aiutare altre persone ovviamente a distanza. Ti propongo un breve viaggio in cui potrai fare esperienza e scoprire nuove parti di te o parti di te che in questo momento vogliono essere riconosciute oppure lasciate andare o trasformate. Ma soprattutto ti offro uno spazio per approfondire la conoscenza di te stesso e anche parti di te più inconsce. Se vuoi saperne di più scrivimi, gli email e i contatti sono sotto questo video e puoi lasciare un commento nella chat. Ti chiedo di condividere questo video se hai qualcuno che magari possa essere interessato. Grazie.